Il Dipartimento di Sanità pubblica dell'USL di Imola ha come struttura l'ispettorato micologico dove potete portare per ottenere la certificazione di commestibilità i funghi, sia quelli per uso domestico sia quelli destinati alla vendita e la certificazione avviene in regime assolutamente gratuito, nello specifico per uso privato viene fornita al cittadino per una maggiore sua tranquillità nell'utilizzo dei funghi, mentre per la vendita è obbligatoria. Per ottenere una certificazione completa, quindi un documento scritto, è necessario che i funghi che ci vengono consegnati siano perfettamente integri, questo vuol dire, contrariamente a quello che viene nella pratica, che non devono essere stati recisi alla base e portati in tutta la loro interezza. Inoltre non devono essere stati rinchiusi in contenitori ermetici come i sacchetti di plastica, perché questi ne facilitano la marcescenza e quindi non risultano più commestibili nel giro di poche ore e soprattutto è necessario che il raccoglitore effetti una minima separazione dei funghi, cioè non li metta alla rinfusa nel cesto, ma anche semplicemente con della carta stagnola, realizzi dei comparti, degli scomparti in cui a livello macroscopico effettuare una prima cernita. Questo fondamentalmente non tanto perché si ha l'ansia che due tipologie di funghi vengano a contatto, ma perché può succedere che non dividendoli, funghi pericolosi e velenosi si spezzino e i loro frammenti finiscano in mezzo a funghi commestibili e successivamente vengano accidentalmente cucinati. Per portare i funghi potete recarvi presso i nostri uffici nei giorni di apertura del front office, questo tutto l'anno, mentre in altro modo potete anche avere un contatto diretto e quindi vedere il micologo e ricevere direttamente la certificazione da lui, ma questo solo nel periodo di apertura dell'ispettorato, periodo che non ha una cadenza fissa, ma varia di anno in anno in base alle condizioni meteorologiche che influenzano la crescita dei funghi. Tra i suoi compiti l'ispettorato micologico assolve quello anche di dare un supporto 24 ore su 24 al pronto soccorso. Cogliamo l'occasione per ricordare che in caso di intossicazioni da funghi o di avvelenamento, agli interessati di portare al pronto soccorso tutte le parti dei funghi, sia cucinate, sia scartate durante la pulizia, sia rimaste nel piatto. Da ultimo come micologi spesso ci scontriamo con retaggi del passato, modi di dire che però sono state cause di intossicazioni e avvelenamento. Forse è il caso di ricordare che non è vero che i funghi invasi da roditori, mangiati, anche da animali domestici necessariamente siano commestibili per l'uomo. Non è vero che per tutti i funghi la cottura elimina il suo potenziale di velenosità, di tossicità e non è vero che i funghi che crescono nei prati o nelle fioriere siano commestibili perché, questo ci è stato riferito da molte persone, alcuni credono che i funghi velenosi crescano solo nel bosco.